In una foresta arrivò un grande temporale. Le goccioline scendevano veloci perché le nuvole erano arrabbiate. Le foglie, oramai secche, cadevano a terra e le goccioline le colpivano provocando un rumore sfroscante. Il vento spazzava via alcune foglie e le rame, impaurite, fuggivano cercando ripare. Il vento soffiò più forte facendo volare la sappia che colpiva i cacchi. Finito il temporale, il vento si calmò e le rame tornarono nello stagno. Il picchio uscì dalla sua tana e iniziò a picchiare il tronco degli alberi mentre dal paesino suonavano le campane. Il vento si calmò e le rame tornarono nello stagno. Il vento si calmò e le rame tornarono nello stagno. Le vento si calmò e le rame tornarono.